Allora oggi fagiolino ripassato in padella con la cipolletta e il pomodolino, perché mi è stato contestato che faccio solo i primi piatti, allora oggi con un tornino, con un fagiolino, quindi andiamo a sbollentare, una volta che è cotto andiamo a vedere come lo ripassiamo. A dopo, ciao! Allora i nostri fagiolini sono stati lessati, quindi adesso che facciamo? Andiamo a ripassare, facciamo un soffrettino di cipolletta e peperoncino, appena soffritto, così pronta, andiamo a inserire i nostri fagiolini lessati, eccoli qua, che per questo sono buoni pure alla fine, così condividono il limone, e andiamo a aggiungere qui, ok? Insieme una decina dei pomodorini tagliati. Perfetto, andiamo a incidare e li facciamo andare per 5, 6, 7 minuti massimo, in modo che si insaporiscono, e poi ce li andiamo ad assaggiare. Sono buoni, eh? Invece di mangiarli sempre solo vessati, quindi fatti passati. A tra poco, eh? Ciao! Il nostro fagiolino ripassato è pronto, quindi ripassato con cipolla, peperoncino, pomodorino, ed è pieno, è buono, invece di farvelo sempre assolutamente vessato. Saporito, piccantino, provatela! È buono! È proprio sfizioso! Un saluto a tutti i miei iscritti che mi seguono. Ciao, alla prossima! Saporito, piccantino, provatela!